Sentiamo il parere della giovanissima Scaramuzzini. Noi abbiamo giocato bene, quindi ce l'abbiamo messa tutta per vincere, quindi ognuno ha contribuito a fare quello che poteva. Di partite ne ha vinte tante, di quella palla arancione a spicchi aveva fatto la sua vita, anche ora che in campo da protagonista non scendeva più. Ma la sfida contro un male incurabile non è riuscita a vincerla, appena è il tempo di scoprirlo che questo si era già preso la sua vita. Piange una perdita importante il mondo del basket calabrese e scomparsa Angela Scaramuzzino, anima per anni della palacanestro femminile d'eccellenza. Tanti gli anni giocati in A2, dalla partenza in quel di Lamezia, la sua città natale, passando per Catanzaro e poi diventare un simbolo del basket silano, giocando per tantissimi anni nella centro palacanestro Rende. Ora Angela abitava a Roma, dove aveva ricevuto l'incarico in una scuola elementare, ma in Calabria curava progetti di mini basket e associazioni di genitori di piccoli giocatori di palacanestro. Una passione senza confini la sua, vera, autentica, una giocatrice d'assalto, una compagna leale nel campo e nella vita, una vita che l'ha abbandonata troppo presto. L'inizio è abbagnato per la Cis24.